Mi sono innamorata dei libri leggendo un libro che mi è stato regalato quando avevo sette anni. Ho trovato sotto l'albero di Natale un pacco, un paccone, e mi ero emozionatissima perché non sapevo che cosa ci poteva essere dentro, e dentro ho trovato pattini d'argento. E non sapevo bene, avevo appena iniziato a leggere, non sapevo bene come avrei potuto affrontare un librone così grande, e poi ho iniziato a sfogliarlo. E da lì mi sono innamorata delle parole scritte. E non mi sono mai più staccata dalle parole scritte perché il libro per me è un modo per andare in un altro uve, in un posto lontano, per essere anche quella che vorrei essere in momenti di difficoltà, di fatica, ma anche di grande gioia. E questo è quello che ho cercato di trasmettere alle mie figlie, perché ho incominciato a leggere loro sin da quando erano nella pancia. Quindi leggevo filastrocche, racconti piccoli, racconti lunghi, leggevo e mi accarezzavo la pancia. E questo posto, che è la biblioteca dei ragazzi, è un posto magico, perché ho incominciato a portarli qua fin da piccolissime, da qualche mese di vita. Quindi hanno incominciato ad annusare l'odore dei libri, non solo quello di casa, ma anche quello della biblioteca. E hanno incominciato a sfogliare, a mordicchiare, a mangiucchiare, a leccare i libri. E adesso leggono, divorano, buttano i libri e li amano, come li amo io. E proprio per trasmettere ad altri bambini, come sono stati loro, la passione per le parole di carta, ho iniziato a leggere parole ad altri bimbi più piccoli. Quindi ho iniziato a fare la lettrice volontaria nella biblioteca dei ragazzi. E leggo ai bimbi da qualche mese di vita, quindi dai 18 mesi di vita fino ai 6 anni. E proprio per poter ridare a questi bambini l'emozione che anche le mie figlie hanno avuto la prima volta che sono entrate qui dentro, quando si sono innamorate del suono delle parole, grazie ad altri lettori volontari che leggevano loro, come leggo io adesso, delle storie che le portavano via, lontane, 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 sulle ali delle favole, delle fiave. E grazie a queste storie loro sono diventate grandi. E anch'io continuo a diventare sempre un po' più grande.